Autorità portuale, il personale passa alla regione. Modificata la legge del 2012, il passaggio avverrà senza variazioni di spesa allo studio e l'eventuale estensione del modello ad altri enti regionali. Le notizie con gli occhi dei giovani presentato a Palazzo del Pegaso, il progetto Generazione News, il giornale online per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Il personale dell'autorità portuale toscana sarà trasferito nel ruolo unico regionale per garantire la piena funzionalità dell'autorità che è un ente dipendente della regione. La decisione è stata dettata dal Consiglio regionale perché i limiti di assunzione vigenti per l'autorità portuale non consentono la piena copertura della dotazione organica. La nuova legge regionale è stata approvata con i voti favorevoli di Partito Democratico, Italia Viva e Lega, il no del Movimento 5 Stelle e l'assenzione di Fratelli d'Italia. Sentiamo le interviste. Una legge significativa che va a rafforzare il ruolo dell'autorità portuale regionale e lo fa soprattutto valorizzando le risorse umane di quest'ultima. La scelta del Consiglio regionale è stata quella di trasferire il personale attualmente in dotazione dell'autorità portuale regionale al ruolo generale della regione toscana con tutti gli adempimenti conseguenti che da questo derivano, compreso il trasferimento del fondo del salario accessorio dall'autorità portuale regionale a quello della regione toscana. Si tratta quindi di un atto importante che vuole modificare l'attuale assetto del personale dell'autorità portuale, fatto essenzialmente da dipendenti propri e da soggetti in distacco e in comando da parte di altri enti, con personale che direttamente è riconducibile alla regione toscana. Un'altra significativa modifica che con questa legge si fa alla struttura dell'autorità portuale è il riconoscimento del ruolo del suo segretario generale che viene individuato quale organo dell'autorità portuale e anche quale rappresentante legale della stessa. Si tratta di due temi, in particolar modo il primo che è sempre stato all'attenzione del dibattito della comunità portuale, perché oggettivamente l'autorità portuale, che anche noi della Lega abbiamo sempre ritenuto un ente importante, però molto spesso ha avuto tutta una serie di difficoltà, tant'è vero che a più riprese abbiamo bocciato il bilancio di quell'autorità, anche perché quelle difficoltà sono nate dal fatto di una incapacità sotto il profilo del personale di rispondere alle esigenze, alle tante esigenze di un territorio importante come quello che gestisce l'autorità portuale, in particolar modo nel porto di Viareggio. Quindi oggi il gruppo della Lega, in modo coerente con quello che ha sempre sostenuto, ha votato positivamente l'atto che riguarda il personale dell'autorità portuale e la figura del segretario dell'autorità portuale, che è particolarmente importante, ma allo stesso modo abbiamo colto l'occasione per evidenziare alcuni elementi di contraddizione. Il primo è che a fronte di un voto importante, che raccoglie anche il voto positivo della Lega su un atto come quello che abbiamo discusso oggi in Consiglio regionale, abbiamo un'autorità portuale che è ancora in fase di stallo, perché ha un commissario che ancora non è segretario e questo succede perché continua a essere in atto una contrapposizione fra la regione toscana guidata dal PD e il comune di Viareggio guidato dalla EXPD. E peraltro all'orizzonte non ci sono buone notizie perché c'è un contenzioso pendente, perché se ne parlerà a metà di gennaio e quindi questo ci sembra un elemento di contraddizione. Ulteriormente contraddittorio, permettetemi la battuta, alla luce del fatto che da pochi giorni la regione toscana e il comune di Viareggio hanno siglato un protocollo d'intesa che ha riguardato in larga parte il porto di Viareggio, ma che all'attenzione delle carte ha evidenziato da una parte il fatto che entrambi gli enti riconoscono nell'autorità portuale un punto di riferimento centrale, cosa che noi condividiamo, l'abbiamo sempre condiviso, ma che va in contraddizione con quello che ha sempre detto il sindaco di Viareggio, almeno negli ultimi due anni, e cioè che l'autorità portuale in realtà andava probabilmente dismessa. E quindi prendiamo atto che il sindaco di Viareggio ha cambiato opinione. Siamo contenti perché non la pensavamo come lui. Dall'altra, in merito a una infrastruttura estremamente importante come è l'asse di penetrazione, e beh dalle carte del protocollo mi pare di capire che l'intesa c'è, ma si fa molto riferimento a tutte le normative, anche ambientali, anche urbanistiche, che debbano essere rispettate e che quindi, secondo me, qualche dubbio sull'effettiva realizzazione a breve di quella infrastruttura, malgrado la propaganda portata avanti dal Comune di Viareggio e dall'amministrazione di Viareggio, la pone. E questo lo dico con dispiacere perché noi della Lega siamo sempre stati a favore dell'asse di penetrazione a sud dello stadio e quindi auspicavamo e auspichiamo che sia realizzato, magari anche meglio di come l'amministrazione di Viareggio pensa di farlo, e cioè con un passaggio completo delle autoretture e del traffico in modo da, come dire, liberare il centro cittadino e non esclusivamente per le imbarcazioni come la recente delibera del Comune di Viareggio. Però, al di là di questa particolarità, prendiamo atto che il percorso probabilmente è ancora lungo. Mi auguro di sbagliare, perché il nostro intento è che si realizzino una sinergia nell'interesse dei cittadini, delle imprese, delle attività che insistono al porto, dell'intera comunità portuale, fra le amministrazioni di come dovrebbe essere, ma purtroppo le contraddizioni in qualche modo emergono lo stesso. Allora, la proposta di legge di oggi non sconvolge il ruolo dell'autorità portuale, motivo per cui non aveva senso da parte nostra votare contro, perché noi crediamo nel ruolo e nel lavoro e facciamo i complimenti a chi fino ad oggi ha gestito questa autorità. Non abbiamo votato a favore perché c'è un passaggio che non ci convince, che è quello che va a trasformare la figura del segretario generale in un ente interno all'autorità portuale. Siccome il segretario generale è una figura che continua a mantenere un rapporto di lavoro con l'autorità portuale, che a nostro modo di vedere è molto simile a un rapporto di lavoro subordinato, ci lascia il dubbio una figura che al tempo stesso sia ente dell'autorità ma continui a svolgere un lavoro da subordinato. È una singolarità, in nessun'altra autorità simile avviene una roba del genere. Nelle autorità portuali nazionali addirittura c'è la doppia figura. Esiste la figura del presidente dell'autorità che è organo, ente dell'autorità e c'è la figura del segretario generale che è un lavoratore esterno. Quindi la Toscana fa una singolarità, ci convince poco, ma siccome ci è stato spiegato che la proposta di legge serve a snellire le procedure dell'autorità portuale, a favorire l'implementazione della pianta organica, l'assunzione di nuovi lavoratori, il trasporto di lavoratori da una parte all'altra e quindi rendere tutto più efficiente e dinamico, non ce la siamo sentiti votare contrari. Cambiamo completamente argomento. Nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso è stato presentato il progetto Generazione News, ovvero il giornale online degli studenti e delle studentesse della Toscana. L'idea di questo giornale è partita dalle consulte provinciali degli studenti e dal Parlamento regionale degli studenti per essere poi recepita dal Consiglio regionale della Toscana, dall'ufficio scolastico regionale, dall'ordine e dalla fondazione dei giornalisti e infine dalle scuole con l'istituto Sassetti Peruzzi di Firenze capofila. Sentiamo che cosa ha detto di questo progetto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Abbiamo sempre detto di dare più voce a chi ha meno voce. Attraverso Generazione News i giovani, i nostri ragazzi, nelle nostre scuole possono raccontare il loro punto di vista sul tempo che viviamo. È uno spazio libero, è uno spazio aperto, è uno spazio di confronto, è un luogo in cui provare a raccontare il presente e il futuro. È un modo per dare autonomia e per noi, per poter ascoltare, per poterci confrontare. Un grazie al Parlamento degli studenti, un grazie alla consulta, un grazie all'ufficio scolastico regionale. Viviamo un tempo in cui siamo inondati da informazioni, da notizie. Poi trasformare tutto questo in qualcosa di credibile richiede che le persone analizzino quelle informazioni e le trasferiscano agli altri in maniera più credibile. Questo è il lavoro che i ragazzi e le ragazze stanno facendo. A loro un grande in bocca al lupo e penso che ogni volta che si costruisca un giornale, un luogo aperto, si costruisce libertà e noi abbiamo bisogno di vivere in un mondo libero. E adesso sentiamo le altre interviste. Per l'ufficio scolastico regionale che ha sostenuto questo progetto anche grazie all'accordo con l'Ordine e la Fondazione dei giornalisti toscani e con il Consiglio regionale toscano è quello di promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi, il promuovere le competenze del sapere orientare in un mondo dell'informazione molto ampio in cui non è semplice poi saper individuare ciò che è giusto da ciò che non è giusto, ciò che è vero da ciò che non è vero e quello di poter, visto che l'idea è nata all'interno delle consulte degli studenti, quello di dare gambe ad un'idea importante, potente come quello di fare un giornale fatto dagli studenti, rivolto dagli studenti, nato fuori dalla scuola ma a vantaggio e con ricadute importanti dentro le istituzioni scolastiche. Perché è importante avvicinare i ragazzi a questo tipo di esperienze? Perché per loro è uno strumento intanto per esprimersi e per tirare fuori la loro voce che in questo momento è veramente la cosa principale da augurarsi per loro, più di qualunque altra cosa, è un momento in cui il rischio è che si chiudano completamente in un'energia entropica e quindi esplodono all'interno, quindi è veramente fondamentale che gli vengano dati gli strumenti per farsi ascoltare, per elaborare quello che loro stanno vivendo che è tantissimo e oltre a questo è anche uno strumento secondo me per rapportarsi con il mondo, per interpretarlo, per spiegarlo, per imparare a comunicare, quindi poi nel futuro per imparare a vivere, a lavorare, a fare qualunque cosa. Il giornalismo è una forma di, per loro è quasi uno strumento per fare politica, cioè per entrare in comunicazione fra di loro, per coinvolgersi, per coinvogliare le energie, quindi l'hanno scelto loro, l'hanno scelto loro e quindi questo ci deve far riflettere. Ma come funzionerà questo progetto? I ragazzi come possono partecipare? Dipende tutto da loro intanto, è un progetto che hanno voluto loro, io sono come dire una specie di garante, di guida, di madre, non so come definirmi, ostetrica, quindi loro l'hanno voluto e loro se lo organizzeranno, poi naturalmente stiamo facendo insieme il progetto, però fondamentalmente funzionerà con il gruppo fondatore di questo progetto, che sono una ventina di ragazzi che da due anni lavorano a questo obiettivo, dopodiché in ogni città, anche attraverso i presidenti delle consulte, si formeranno delle piccole redazioni, divise anche per argomenti, per la scelta che ogni ragazzo individuerà, quindi gli argomenti che vorranno seguire e il territorio. E poi ci sarà qualcuno che farà la quadra, diciamo, e si farà un'operazione di sintesi che sarà a Firenze, alla scuola Sassetti Peruzzi, che è un po' la scuola capofila di tutte queste, di questa cordata, da cui nasce una scuola molto viva, da cui con un preside molto attento e molto aperto alle novità, che guida un po' tutte le altre scuole. Ma innanzitutto è fondamentale avvicinare i ragazzi alla lettura, indipendentemente dal mondo del giornalismo. È chiaro che quando poi appassioni i ragazzi alla lettura, il passo successivo è coinvolgerli nella nostra professione, professione che in questo periodo, sapete, è bombardata da mille informazioni. E credo che questo sia un progetto utilissimo per i ragazzi, per drenare tutte queste informazioni che arrivano e elaborarle con le loro idee. È chiaro che noi, come ordine dei giornalisti, la nostra funzione è quella di assistere, di essere vicini alle loro esigenze e accompagnarli in questo percorso. Tra l'altro siamo molto sensibili all'informazione per i giovani e soprattutto con i giovani. È da un paio di anni che, come ordine, facciamo un corso contro le fake news, proprio rivolte a tutte le scuole. Ed è un corso che ha avuto molto successo, siamo riusciti anche a espanderlo alle varie province della Toscana e ci sta dando risposte molto importanti. E questo progetto va nel solco della informazione proprio rivolta ai ragazzi. È chiaro che è un percorso che deve essere, come ho detto prima, aiutato, ma noi siamo disponibili assolutamente a metterci a disposizione per qualunque tipo di informazione iniziativa che vorranno intraprendere. Io parto col dire che in questo momento sono molto contento e anche un po' emozionato perché reputo fondamentale che in questo caso le istituzioni si prendano il compito in qualche modo di emancipare i ragazzi anche sotto un aspetto di vita politica. Perché oggi purtroppo vediamo molto spesso i ragazzi lasciati fuori dalla partecipazione politica consapevole e questo giornale penso che sia un deciso passo in avanti verso una scuola invece che sia caratterizzata dall'inclusione, quella vera e dalla partecipazione alla vita politica che può derivare solo da un'emancipazione vera ed effettiva. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, grazie per l'attenzione e buona serata.